Calendario scolastico 2022-23 Ponti 2023, migliori calcolatrici scientifiche, i promessi sposi, podcast, mappe concettuali, Date maturità 2023, tema sul ritorno alla normalità dopo il coronavirus, temi svolti, riassunti dei libri 25 aprile e frasi Il 25 aprile si festeggia la festa della liberazione, ovvero quel giorno in cui tutta Italia celebra il momento in cui i propri territori, ancora sotto legida del nazifascismo, Milano e Torino in primis, dichiararono pubblicamente l'insurrezione attraverso il CLN. Il Comitato di Liberazione Nazionale che fece partire l'appello alla rivolta, per questo, anche se la guerra continuò nei giorni successivi al 25 aprile, la data scelta per festeggiare la liberazione dal nazifascismo e celebrare la resistenza italiana è proprio quella del 25 aprile. Frasi sulla resistenza antifascista moltissimi poeti e scrittori, ma anche politici di spicco, spesso prendendo ispirazione dalla loro esperienza di partigiani, hanno parlato del valore della resistenza e del 25 aprile. Ecco quindi una raccolta delle frasi sulla libertà e la resistenza più celebri per celebrare insieme a loro la festa della liberazione. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero perché lì è nata la nostra Costituzione. Piero Calamandrei La Costituzione è un buon documento, ma spetta ancora a noi fare in modo che certi articoli non rimangano lettera. Morta, inchiostro sulla carta In questo senso la resistenza continua. Sandro Pertini La resistenza e il movimento studentesco sono le due uniche esperienze democratiche rivoluzionari del popolo italiano. Intorno c'è silenzio e deserto, il qualunquismo, la degenerazione statalistica, le orrende tradizioni sabbaude, borboniche, papaline. Pier Paolo Pasolini Tu non sai le colline, dove si è sparso il sangue. Tutti quanti fuggimmo, tutti quanti gettammo, l'arma e il nome. Cesare Pavese, 9 novembre 1945 Sempre sulle lapidi A me basterà il mio nome Le due date che sole contano E la qualifica di scrittore partigiano Mi pare di aver fatto meglio questo che quello Beppe Fenoglio I ventitré giorni della città di Alba Qui vivono per sempre gli occhi che furono chiusi alla luce perché tutti li avessero Aperti per sempre alla luce Giuseppe Ungaretti Per i morti della resistenza La resistenza era stato un fatto straordinario Aveva realizzato una unità veramente eccezionale che andava dagli ufficiali badogliani agli operai comunisti Nilde Jotti Ascolta su Sprecher Frasi di Calvino sulla resistenza Uno degli scrittori che meglio ha descritto la resistenza, avendone fatto parte in prima persona, è stato Italo Calvino Non ne parlò molto ma ne scrisse nei suoi romanzi Ecco una raccolta delle sue frasi sulla resistenza Sogni dei partigiani sono rari e corti Sogni nati dalle notti di fame, legati alla storia del cibo sempre poco e da dividere in tanti Sogni di pezzi di pane morsicati e poi chiusi in un cassetto I cani randagi devono fare sogni simili Dossa rosicchiate e nascoste sotto terra Solo quando lo stomaco è pieno Il fuoco è acceso E non si è camminato troppo durante il giorno Ci si può permettere di sognare una Donna nuda e ci si sveglia al mattino Sgombri e spumanti, con una letizia come d'ancore salpate Il sentiero dei nidi di ragno Certe cose sulla vita partigiana nessuno le ha mai dette Nessuno ha mai scritto un racconto che Sia anche la storia del sangue nelle vene, delle sostanze nell'organismo Dietro il milite delle brigade nere più onesto, più in buona fede, più idalista C'erano i rastrellamenti, le operazioni di sterminio, le camere di tortura, le deportazioni e l'olocausto Dietro il partigiano più ignaro, più ladro, più spietato C'era la lotta per Una società pacifica e democratica Ragionevolmente giusta Se non proprio giusta in senso assoluto Sce di queste non ce ne sono Liberazione e resistenza Approfondimenti Ecco qualche risorsa che può esserti utile per approfondire meglio il tema o conoscere gli Scrittori che hanno raccontato la resistenza italiana durante la seconda guerra mondiale Resistenza e guerra civile in Italia Storia e caratteristiche del movimento popolare che si oppose al nazifascismo durante la seconda guerra mondiale L'eccidio delle fossardeatine Riassunto degli eventi del 23 e 24 marzo 1944 L'attentato in via a Rasella e la rappresaglia Nazista Seconda guerra mondiale Approfondimento e cronologia sui fatti della guerra Contesto storico della resistenza Cos'era il fascismo approfondimento sul periodo che portò alla nascita dell'opposizione armata popolare In Italia Italo Calvino Biografia Opere e pensiero dello scrittore partigiano Beppe Fenoglio Riassunto delle opere del celebre scrittore 25 aprile Mappa concettuale Mappa concettuale sulla liberazione Il 25 aprile il partigiano Johnny Riassunto e analisi Scheda Libro dettagliata del libro di Beppe Fenoglio Bella Ciao Significato Testo e spiegazione del canto legato ai partigiani 25 aprile 1945 I protagonisti Nomi e storie di chi ha fatto la resistenza Triciolo Persegui Persegui Persegui